Ok, se ci sono i suoi risultati, abbiamo fatto il nostro corso di pasta. Le prezzi direzionali in figura indicano ai conducenti le direzioni consentite all'incrocio. Le prezzi direzionali in figura indicano ai conducenti le direzioni consentite all'incrocio. Direzione consentite, direzione consentite, ma che è l'incrocio? È l'incrocio? È l'incrocio? È l'incrocio. È vero. Al momento dello smaltimento dell'olio del motore bisogna evitare che venga a contatto con la pelle per un tempo prolungato. Vero. La distrazione del conducente non è determinata dall'uso del cellulare. Falso. Non è vero. Non è vero. Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui il conducente ha l'obbligo di fermarsi con l'altro si trova solo se la curva è su strada a senso unico. Falso. Falso. La revisione della patente di guida può essere disposta con l'obbligo di sottoporsi a visita medica e o a esame di idoneità tecnica. Vero. Vero. Forse la revisione della patente può essere disposta con l'obbligo di sottoporsi a visita medica e o a esame di idoneità tecnica. Vero. Vero. Lo spazio totale di arresto aumenta se la strada è coperta di fango. La manomissione dell'impianto di scarico non comporta alcuna sanzione purché si circoli solo nei centri urbani. Falso. Manomissione significa che non si tratta di un'obbligo di sottoporsi a visita e non si tratta di un'obbligo di sottoporsi a visita. Non si tratta di un'obbligo di sottoporsi a visita. Manomissione, no? Non si tratta di un'obbligo di sottoporsi a visita. Chi intende cambiare corsia deve controllare che la corsia che vuole occupare sia libera davanti per un tratto sufficiente. Vero. Vero no. Vero. 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 Non è consentito. Non è consentito. Vero. 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 Se un infortunato della strada ha riportato frattura agli archi, bisogna bloccarli e subito dopo, se necessario, attuare le normali misure anti-shock. Vero. No, falso. Frattura agli archi, bisogna bloccarli e subito dopo, se necessario, attuare le normali misure anti-shock. Fattura agli archi, bisogna bloccarli e subito dopo, se necessario, attuare le normali misure anti-shock. Vero, vero, vero. Vero, vero, vero. Se un infortunato della riportato frattura degli archi, che cosa si diceva le normali misure anti-shock. Grazie a tutti. Se è necessario attuare le norme misure anti-shock, quindi se un infortunato della strada è un abbondante emorragia esterna, si deve tamponare subito la ferita facendo pressione con del materiale pulito, possibilmente esterno. E' vero. 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 Falso. E' vero. 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 Vero vero. E' vero. La figura indica lo svolgimento di una gara podistica. La figura indica lo svolgimento di una gara. I ciclomotori sono soggetti a revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due anni. I ciclomotori sono soggetti a revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due anni. Vero, vero. 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 Il segnalo di gioco il raffreddamento è di colore rosso. Vero. L'encarn prayedknere nelchio di raffreddamento è di colore rosso. Vero, vero. 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 Il segnale raffigurato è usato su strade con diritto di precedenza. Il segnale raffigurato indica l'inizio di un lungo rettilineo. Il segnale raffigurato è usato su strade. 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 Grazie a tutti.